Che cos'è un'esperienza? Commento. Per i maestri immateriali del cerchio Firenze 77 ogni esperienza è contenuta da una serie di fotogrammi che sono immutabili, fissi, congelati come in una pellicola cinematografica. L'illusione del movimento dello spazio del tempo è data dalla nostra mente che si sposta da un fotogramma ad un altro ma nell'eterno presente nulla si muove.